Non è importante essere sempre perfette, soprattutto se si arrivano a certa età come la mia, quindi un trucco deve semplicemente rispecchiare due concetti importanti, che sia luminoso e che sia naturale, perché se si vedono un pochino di occhiaie o si vede un pochino la macchia o la ruga, non è così catastrofica la cosa. L'importante è che l'insieme ci dia luminosità, questo è fondamentale. Partiamo da questo concetto. Quindi una perfetta idratazione sempre, sempre prima di iniziare un make-up. È possibile utilizzare uno spray fissante che fa anche da prime prima di ogni make-up, perché questo spray qua, che non è alcolico, quindi non secca la pelle, ci dà la possibilità di dare alla nostra pelle morbidezza, idratazione, ricchissimo di tè verde, e quindi rendere la pelle elastica. Me lo spruzzo in questo modo e come potete vedere sembro quasi bagnata, ma è lo spray che poi si asciuga, ma mi crea una perfetta elasticità, è lenitivo e quindi è adatto a chi non ama avere prodotti, troppi prodotti sulla pelle, ma questo si può dare sia all'inizio che alla fine di un trucco. Partiamo subito dalle mie occhiaie. Nel caso vado a mischiare due correttori, uno in chiffon, che è un po' più aranciato per le mie occhiaie scure, e uno in organza. Non vado con questo dosatore direttamente sulla mia zona da coprire, perché questi prodotti ragazzi sono molto corposi e molto pigmentati, quindi bisogna utilizzarli bene, ma ne ho messo pochissimo, anche troppo, qui sul palmo della mano, perché farò un mix tra i due colori, di modo che con un pennellino piccolino vado a mettere pochissimo prodotto e poi l'ho presso col dito, magari col mignolo che è più piccolo. Se per caso il correttore ti segna troppo, non devi assolutamente andare col dosatore, mettine poco e usa il dito tutt'al più, perché il pennello ti potrebbe prendere troppo prodotto. In questo momento vado a coprire la mia discromia, in questo modo qua, mi giro per farti vedere meglio, perché se metterai poco prodotto non ti deve segnare, non ti deve assolutamente segnare il correttore. Guarda, io ne ho messo anche troppo e vado leggerissimamente proprio ad applicarlo, poi utilizzerò dopo la parte più chiara per poter illuminare. Se ne metti poco e idrati bene questa zona, il correttore non ti deve segnare, non deve segnare assolutamente. Nel polpastrello del dito, oppure con un pennello anche a lingua di gatto, posso scendere un attimo, ho il riflesso della luce di casa della finestra che mi sfalsa un attimo, posso scendere un attimo anche in questa zona qua, pochissimo. Questa piccola macchiolina la coprirò dopo, qua posso andare un po' a mettere un altro po' di prodotto, ma sempre poco ragazze, perché non deve assolutamente segnare. Quindi andiamo adesso a correggere la mia occhiaia. E procediamo con un fondotinta pochissimo, in questo caso userò il fondotinta liquido. Se il fondotinta liquido ti risulta effetto cipriato, puoi aggiungerci un pochino di crema giorno. Questa è una colorazione chiffon ragazze, io prendo due o tre gocce, non di più, come potete vedere. È un colore medio scuro, per chi ha la carnagione un po' olivastra e tende più al freddo che al caldo. Cosa vuol dire? Che è un po' più rosata rispetto al giallo. Quindi di conseguenza prendo pochissime gocce di questo fondotinta, prendo un pennello kabuki, lo picchietto e poi vado semplicemente, non subito a sfumare tutto da una parte, prendo il prodotto, lo trasferisco leggerissimamente su tutto il mio viso, in questo modo qua, e adesso lo vado un po' a sfumare. Deve essere una luminosità naturale. Adesso ho il riflesso della luce della finestra e magari mi sfalcio un po' e vado a abbassarla adesso, le prossime immagini magari vedrai molto più nitido. E vado un po' a sfumare queste due o tre gocce, perché vogliamo sempre un effetto molto naturale e molto luminoso. Non dobbiamo andare a stratificare prodotto su prodotto, perché vogliamo coprire per forza tutto, perché vogliamo che le rughe non si vedano. Le rughe, ragazze, non è facile mandarle via. Io qui, come puoi vedere in questa base, ho messo solo tre gocce di fondotinta liquido. Guarda, non c'è più niente qua. E vado un attimino anche sotto. Potrei aggiungere un'altra goccina, ma ripeto, io voglio un effetto glow, un effetto luce, quindi non devo mettere troppo prodotto. Una cosa molto importante per chi ha la palpebra mobile fissa, che non è chiara, oppure è un po' scuretta, devi assolutamente utilizzare un correttore. E se per caso hai la palpebra mobile, che è molto evidente, ti creerà un'umidità in mezzo dove c'è lo sfregamento tra la palpebra mobile e la palpebra fissa, io ti consiglio di utilizzare un primer. Un primer occhi, che ti va a assorbire l'umidità, ti va a fissare gli ombretti dove li vuoi mettere, senza far sì che questi si trasferiscono fra le pieghe. In questo caso qui, adesso io ho una rimanenza di correttore, vado a mettere pochissimo primer occhi qua, e faccio un pochino una cremina in questo modo qua. Ma poca poca ragazze, e la sfumo sulla mia palpebra mobile fissa, così vado a coprire anche la mia discoromia scura, di modo che il trucco che farò di ombretti sarà molto più visibile. Di qua ne ho messo meno, non lo vado ad aggiungere. Naturalmente un correttore va fissato, va fissato sempre, con pochissima cipria. E la cipria, se ce l'hai compatta, magari prendila con un pennellino appena appena, non utilizzare le spugne che ci sono della cipria, perché prendono troppo prodotto, ne prendi pochissima, e con un pennellino cicciottello tipo questo, vai a fissare il correttore, ma vai anche a fissare il primer, che io ho mischiato il correttore, per far sì che poi i miei ombretti scorrano molto meglio. Pochissima cipria, pochissima, guarda quando io la applico, mi opacizza il tutto, e quindi ne metto veramente pochissima, poca poca poca, pochissima. Anche se qua si vede la macchiolina, posso decidere adesso, dopo che ho messo il fondotinta, se voglio di andare con il correttore rimasto, a picchettare pochissimo correttore, poco poco poco, e poi l'ho presso col dito, per coprire le mie discromie più importanti. Sempre con la cipria, lo vado semplicemente a fissare. Stop. Se volessi adesso illuminare, potrei utilizzare un correttore più chiaro, per poter dar luce alla correzione delle mie discromie. Mi è venuto anche un herpes. Ahimè. Penso che sia stato lo stress della pagina le ultime occasioni. Che ragazza, è stato un delirio, veramente. Mi è venuto anche l'herpes. Mai avuto herpes in vita mia. Ah, unique. Andiamo adesso sugli occhi. Utilizzerò un colore nude come questo, che è un caramello caldo, che prendo da questa paletta Edition 9. Scarico il prodotto. Utilizzo un pennello un po' cicciottello. E che cosa faccio? Vado sulla mia parte più alta, qui, esattamente qui. Aspetta che te la faccio vedere. Esattamente qui. Sopra dove ho la palpebra che cala. Scarico il pennello, mi raccomando. E inizio a fare delle sfumature, che porto anche un po' verso l'esterno. Quindi vado verso l'alto, con l'occhio aperto volendo, e faccio questa sfumatura con un colore nude un po' deciso. che mi possa permettere di dare un inganno. Ma vado a liftare in su. Ce ne aggiungi un po' alla volta, finché vedi che hai un'ombra che ti piace, e che ti soddisfa. E vado a creare, con questa piccoletta, piccolo allungamento, vado a creare un effetto un po' liftante del mio occhio. Con un pennello a lingua di gatto, prendo questo colore opaco, che è un avorio, che mi vira un po' sul rosa. Adesso potrei aggiungere un ombretto, magari un pochino più shimmer o luminoso. Alzo la mia palpebra, e vado qua. Esattamente in questo punto qua. Vado a creare qui una luce, perché voglio tirar fuori il mio occhio, di modo che la mia palpebra, che è rilassata o occhio incappucciato, sia leggerissimamente meno visibile. In questo modo qua. Col pennello da sfumatura, sfumo solo la parte finale. Un pennello trasversale come questo, lo vedi, è proprio trasversale, io prendo un colore più scuro, questo qua. Questa è un'opzione che si può fare, lo prendo di qua e di là, scarico un po' il prodotto, vado qua, nella parte finale, a fare la codina, e faccio una sorta di maggiore, in questo modo qua. E poi, prendendo il pennello nella sua parte piatta, io posso andare a sfumare verso l'interno, questo marrone scuro. e qui cerco di andare verso l'alto. Vado a creare una leggerissima profondità, nella parte sotto, dove ho messo anche il color caramello, e vado dall'esterno, in questo modo qua, proprio con il pennello piatto, verso l'interno, per dare un po' più di spessore al mio trucco, e ingannare un pochino di più la palpebra accalante. Una cosa che è molto, molto interessante da imparare a fare, è l'arima, e mi è caduto il tappo, superiore in fracigliare, cosa vuol dire? Fra le ciglia. Questa è una tecnica, che ti può aiutare moltissimo, a delineare il tuo sguardo, e per dare profondità al tuo occhio, dare intensità, più che profondità al tuo occhio. Quindi, se hai difficoltà, ricordati che con il primer, messo sotto, gli ombretti, non si devono muovere. Ti puoi aiutare col palmo della mano, in questo modo qua, a andare proprio fra le ciglia, a fare dei piccoli, piccolissimi tratti, perché ti aiuterà a intensificare, molto di più, l'occhio. Guarda, adesso vado qua, devi stare proprio, devi colorare fra le ciglia, non devi andare a riempire, la palpebra interna, la rima interna dell'occhio, ma devi stare fra le ciglia, così il mascara, quando lo applichi, sarà molto più di effetto, e non è un'operazione difficile, ragazze. Questa è una cosa, che riusciamo, secondo me, con un po' di esercizio, a fare tutte. Non so se riesci a vedere, io vado proprio a muovere le ciglia, tu se riesci a far bene, a questo movimento, ti rendi conto, che è come se, in questo momento, muovi le tue ciglia, le muovi, vedi che si muovono, e quindi se si muovono, stai facendo la cosa giusta. Eventualmente, con un pennellino angolato, come questo, prendi, un po' di marrone, quello più scuro, e vai qua, adesso attaccatissima alle ciglia, attaccatissima, perché vedi che si è sporcato, un po' di matita, e vado a fissare, la mia matita, in questo modo qua, solo dove vedi che hai fatto, il segno della matita, quindi la rima infracigliare, ci aiuterà, a dare più definizione all'occhio, ma con molta eleganza, a me piace, delineare solo una parte finale dell'occhio, in questo modo qua, ti faccio vedere, sempre fra le ciglia, con il marrone più scuro, oppure se si vuole, con una matita, punto luce, lo possiamo utilizzare, all'interno degli occhi, se abbiamo gli occhi, abbastanza vicini, se invece abbiamo gli occhi, molto lontani, è meglio non farlo, io in questo caso, faccio un punto luce, lo posso fare opaco, con una palette che tu hai, oppure un po' più luminoso, in questo caso, prendo questo colore qua, e vado qui, a fare il mio punto luce, oggi ti faccio vedere, un blush in polvere, che ha una leggerissima, satinatura dorata, e può essere utilizzato anche, come illuminante, io sono molto, olivastra, e quindi si vede poco su di me, ma può fare, sia da blush, che da illuminante, chiama sisterly, e vado qua, vado un po', senza terra, senza niente, a dare questo effetto di luce, non andare, dove hai le rughette, con gli illuminanti, perché giustamente, potrebbero, evidenziare, più la ruga, quindi oggi, vado solo, con un blush, un'altra cosa, che posso fare, nell'arcata sopraccigliare, posso andare, o a mettere, un colore luminoso, oppure un colore opaco, perché voglio andare, a alzare un po' l'occhio, le sopracciglia, adesso non le farò, perché farò, un altro video dedicato, e utilizzo adesso, questo colore opaco, e lo posso andare, a mettere qua, perché andrà, un attimino, a dare luce, a tutto il mio insieme, poi prendo il pennello, con cui ho sfumato, e vado, guarda la differenza, che ci può essere, tra quest'occhio, a me piace molto, delineare, l'arcata sopraccigliare, con un colore opaco, è molto più bello, naturalmente, se fossero stati disponibili, blush cremosi, che si possono mettere, anche sulle labbra, te l'avrei fatto vedere, però, ancora non sono usciti, e magari ne riparlerò, in un altro video, perché sarebbero meglio, quelli cremosi, le mie labbra, sono state bene idratate, perché ho utilizzato, prima la maschera, vado, come vedi, ho le labbra piccole, le nostre labbra, hanno un volume, tutte le labbra, hanno un volume, anche le mie, che sono piccole, ti chiedo scusa, perché mi è spuntato, questo herpes, questa mattina, quindi, stavo dicendo, le labbra hanno un volume, è importante, sulle labbra piccole, come le mie, andare a riempire il volume, quindi, prendo una matita nude, che si chiama Patience, e vado a, un millimetrino sopra, il mio volume, per delinearle, in questo modo qua, faccio una croce, che mi dà il punto di partenza, perché nella croce, non vado, oltre al bordo, ma vado qua, e a fare un arrotondamento, senza arrivare troppo, al bordo delle mie labbra, perché il bordo delle mie labbra, lo farò dall'interno, e vado anche a riempire, oltre al vermiglio, anche le mie labbra, e già, questa forma che ho dato, deve essere rotonda ragazze, ma un po' più rotonda, dopo aver delineato le mie labbra, e creato un gioco, sul mio volume, quindi me le farà apparire, ancora più grandi, di quello che sono, vado a mettere, questo rossetto opulence cremoso, che si chiama Affluent, per dare un effetto glow, quindi luce, luminosità, applico sopra il mio rossetto, solo nel centro, un gloss, solo nel centro, quindi questo è proprio un effetto, di labbra rimpolpate, grazie al make up, passiamo il mascara, perché non deve mai mancare, applico il mascara epic tradizionale, che dà volume, dà intensità, parto dall'attaccatura delle ciglia, e faccio un leggerissimo zig zag, che ha la problematica, che il mascara, gli può scendere, non deve mai, possibilmente applicarlo sotto, un pochino alto, così posso, evitare di sporcarmi, se c'è troppo prodotto, ragazze, scaricatelo, perché non deve essere, un effetto grumoso, vado solo nell'ultima parte, a fare un leggerissimo tocco di mascara, come vedi non ho messo matita, non ho messo niente, e questo è l'effetto, se io volessi alla fine fissare poi il tutto, qualche spruzzata, al posto di una cipria su tutto il viso, di uno spray fissante, questo è un semplice trucco, adatto alla mia età, molto delicato, sulla palpebra incappucciata, sull'occhio incappucciato, su una palpebra cadente, grazie a tutte, per aver seguito il mio, il mio, il make up di oggi, seguirà domani, un video, su come io delineo le sopracciglia, te lo farò vedere, perché l'importante, è fare trucchi molto naturali, molto tranquilli, molto semplici, non andate mai a calcare troppo, con il prodotto, i nostri prodotti, sono prodotti altamente pigmentati, e ricordatevi che ne basta veramente poco, per ottenere un buon risultato, ma dovete imparare a utilizzarli, e per questo ci siamo noi consulenti, io vi auguro tutte, una meravigliosa giornata, e grazie per seguirmi, e grazie per i commenti, e per tutto quanto, ciao!